Ecco amici, la festa qui sta per finire, i carri hanno terminato la loro sfilata, ci sono ancora gli sbonderatori che danno saggio della loro bravura, vicino a me c'è il sindaco, il dottor Giovanni Golfi. Vediamo, ma quali sono? I suoi cittadini hanno un grande entusiasmo. Ogni anno è così e cosa vi aspettate da questa sagra della vendita dell'Uva? Dunque, io direi che il vero grande artefici di questa meravigliosa manifestazione è indubbiamente il popolo di Solopaga, il popolo di Solopaga che vive e sente intensamente queste giornate e si prodiga fino all'inverosimile sia nell'organizzazione dei magnifici carri che mi hanno dovuto osservare e che richiedono veramente un impegno certosino e sia nell'allestimento degli stand lungo i gastronomici, lungo il paese, dei cibi genuini e tradizionali che vengono offerti a tutti i visitatori unitamente al vino che ovviamente è gratis per tutti. Allora, con questo, con l'augurio di rivederci presto a Solopaga, saluto tutti gli amici del vino e perché no, anche gli esterni. Ciao e a presto! Grazie, speriamo di rivederci l'anno prossimo. Grazie a tutti!